ciao amici benvenuti cucina comauro oggi vedremo come preparare la pasta della pizza vediamo assieme gli ingredienti 500 grammi di farina 00 io usato una farina v 260 acqua temperatura ambiente 300 ml olio extravergine d'oliva 35 grammi 10 grammi di sale fino e 5 grammi di lievito andiamo alla preparazione per questo tipo di impasto si può fare anche a mano io uso una palettaria che è più comoda con il gancio andiamo a mettere l'acqua tutta l'acqua e il lievito iniziamo lo spezzitiamo un pochettino mettiamo il gancio e poi iniziamo a farla mescolare sempre sulla prima velocità e intanto mettiamo anche l'olio quando il lievito si è sciolto andiamo a mettere pian pianino la farina ecco che abbiamo messo tutta la farina adesso aspettiamo che si incorda e prendete la palettaria bene pulita quando viene pulita vuol dire che è pronto l'impasto a questo punto che quasi incordate ne dobbiamo metterci sale facciamo andare più o meno ancora per 5 minuti che il sale si incorpora ecco che il nostro impasto è pronto mettiamo un po' di farina al piano si portiamo all'impasto è molto molto morbido adesso iniziamo a dargli un po' di pieghe un po' di pieghe un po' di pieghe un po' di pieghe prendiamo uno strafinaccio e lo copriamo e lo mettiamo in forno per due ore spento ecco la pasta della pizza lievitate due ore adesso andiamo a mettere un po' di farina e la dividiamo in quattro più o meno 250 grammi a pallina facciamo mettermo la bilancia facciamo facciamo A presto. Andiamo a fare le palline. E' veramente, veramente morbido l'impasto. Andiamo a fare le palline. E' un po' piccolino. Facciamo una pizza un po' più piccola. Adesso li copriamo. E' un po' più piccolino. Altri 40 minuti. Ecco la nostra pasta dopo un'ora. Andiamo a dare gara con le mani. E' un po' piccolino. E' un po' piccolino. Adesso andiamo a mettere il condimento. Prendiamo il pomodoro. e' un po' piccolino. E' un po' piccolino. E' un po' piccolino. E mettiamo la mozzarella. E per finire facciamo il giro d'olio. E' un po' piccolino. Lo forniamo a 250 gradi per circa 8 minuti. Tempo esatto ve lo dico dopo. La seconda versione. Mettiamo il pomodoro. e' un po' piccolino. con il serve. E' un po' piccolino. E' un po' piccolino. E' un po' piccolino. E infine mettiamo la mozzarella Ecco le due pizze appena sfornate, una a prosciutto, la vostra a sinistra e la destra pizza con il Worcester Andiamo alla prova dell'assaggio Provare la prima, vediamo un po', vediamo come è ben lievitata Buona, andiamo a provare l'altra Proviamo l'altra Buona, fatemi tutte